Contro la crisi economica, un coordinamento tra le attività produttive di Torre del Greco. Il gruppo si è riunito presso l'incubatore di imprese Stecca per dar concretezza e rappresentatività a progettualità e proposte condivise tra le forze economiche. Punto di partenza sono i dati allarmanti sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria, degli ultimi dispositivi normativi e la comunicazione mediatica sull'epidemia. Il gruppo sta elaborando un documento condiviso che sarà indirizzato per le relative competenze ai diversi interlocutori istituzionali. Si è costituito il coordinamento delle attività produttive di Torre del Greco ma con l'idea di ampliarlo anche agli altri comuni della costa vesuviana. Per cui oggi ci siamo riuniti in maniera spontanea con i rappresentanti delle imprese del mondo artigianale, commercio, turismo, servizi e cultura e quindi in particolare le associazioni ASCOM, Consorzio Costa del Vesuvio, ASSO Coral, Conf Imprese Italia Provincia di Napoli, Conf Esercenti, Associazione Sviluppo Area Porto e con la partecipazione anche dell'Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio con l'idea di elaborare un documento condiviso che sarà indirizzato ai vari livelli istituzionali con i quali cercheremo di costruire un'interlocuzione finalizzata alla costruzione di supporti e sostegni alle imprese che sono fortemente in sofferenza. L'idea però è soprattutto quella di continuare a vederci regolarmente come abbiamo già fatto in passato ma questa volta con un impegno rinnovato e condiviso per ragionare su delle progettualità concrete per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie a tutti!